E voilà! Ragazzi, sono ritornato, come state? Sono un po' chiuso onestamente, ho già preso il raffreddore, è anche un mese che me lo porto dietro, non vuole andare via, però spero che per il resto vada tutto bene per voi, almeno per voi. Quindi, ecco, non vi ho abbandonato, sono tre mesi, è vero che non ci sentiamo, però come detto io qui pubblico le cose che mi fanno comodo. Quindi, andiamo al sodo, allora, come avrete già letto dal titolo, sono qui per farvi vedere un video in cui ho guidato una Ferrari 458 Italia, ecco, il mio sogno era guidare una Ferrari, e io onestamente quando i miei amici me l'hanno regalato, io non ci potevo credere, non stavo per mettermi a piangere, perché appunto non so se vi è mai capitato di esaudire un vostro desiderio che volete, ma non vi è concesso, e di punto in bianco vi ritrovate immersi dentro quel desiderio, ecco. Io vi posso lasciare al video, ovviamente se mi capita qualche altra cosa per la testa che ho in mente, ve lo anticipo, io ve la carico qua su YouTube, non sarò attivissimo come avete potuto vedere, però io ce la metterò tutta. Ragazzi, vi lascio al video, ancora è stata un'esperienza, io non ho parole, non ho parole, vi lascio al video, ragazzi statemi bene, ci vediamo al prossimo video. bella, mi raccomando guardatelo tutto perché è una roba splendida, ciao ragazzi, via il video, che cazzo ho chiudito il video, via il video. bella, mi raccomando guardatelo, via il video, via il video, via il video, vi lascio al video, bella, mi raccomandolo, bella, mi raccomando guardatelo, mi raccomando rovi e r salary, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.